Il grande cuore di Castellabate scende in piazza per aiutare il piccolo chicco di Stella Cilento, che sta combattendo una battaglia dura a soli cinque anni. Artisti, musicisti, associazioni, proloco e tantissimi cittadini domenica 29 settembre in piazza Lucia Santa Maria di Castellabate saranno uniti e presenti con stand di degustazione di prodotti tipici per raccogliere fondi da destinare alle cure del piccolo bimbo. Una giornata non stop che inizierà alle ore 10 del mattino e proseguirà fino a notte fonda, accompagnata dalla buona musica, come ci spiega nel dettaglio il responsabile dell'ufficio di promozione turistica del comune di Castellabate, Enrico Nicoletta. Grazie innanzitutto a voi di Cilento Channel che ci aiutate in questa grande opera di comunicazione. Il cuore di Castellabate è sempre più grande parte domenica 29 settembre con questa giornata di solidarietà, una giornata di solidarietà che sarà improntata proprio sul contributo di tutte le associazioni dei comitati parrocchiali e soprattutto con l'apporto artistico di tanti musicisti, cantanti e risorse del nostro territorio. Noi faremo una non stop che partirà alle 10 del mattino e si prolungherà fino alle 24. Quindi una giornata intera, uno stop, una piccola deletton nel cuore di Castellabate a Piazza Lucia con un palco centrale, tanti stand di degustazione e soprattutto tante esibizioni. A cominciare da Puccio Chiariello, Bruno Manente, Peppe Cirillo, Giovanna Germano, tanti tanti gruppi musicali, tanti artisti, la bottega teatrale, Actor Sud, le scuole di ballo, tutto quello che è arte che si trasformerà in un palcoscenico proprio naturale, in una non stop che vedrà il coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio. È una bellissima cosa, veramente io sono, non dico soddisfatto, ma sono orgoglioso di appartenere a questa terra, perché questa terra con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue sfaccettature e gli angoli negativi, poi ha questa positività improvvisa, questa aggregazione e questa unione dalla quale poi nasce la vera solidarietà, il vero stare vicino a problemi così importanti come questo bambino che deve vincere questa battaglia. Dobbiamo aiutare Chicco, dobbiamo aiutare Chicco perché il Cilento deve dare prova di grande cuore, di grande aggregazione.